ciao ragazzi allora è finita mi sono sbagliato e questo già lo devo dire perché a me non mi piace non è mai piaciuto non ammettere quando sbaglio le previsioni mi piace quando le azzecco ma è anche giusto quando le sbaglio ammetterlo perché credo che faccia che che sia giusto passa clamorosamente la francia clamorosamente passa meritatamente la francia che batte 4 a 3 l'argentina premesso che tutti quando è ma 4 a 3 4 a 3 quando c'è un 4 a 3 secondo me non è mai una gran partita vuol dire che è piena di errori divertente per chi la guarda ma per uno tecnico e critico vuol dire che qualcosa le due squadre hanno sbagliato e chi ha sbagliato tantissimo secondo me sia stata sia la francia ma soprattutto l'argentina l'argentina che ha fatto secondo me ancora ancora sono stati fatti ancora errori di formazioni fazio che entra al 46esimo ansaldi che non vede il campo di vale e i guain che non giocano facendo giocare pavone adottando pavone che accannato l'ennesima partita del del suo mondiale e alla fine credo che la francia passa trascinata da un da un bapè fantastico fantastico perché intanto sposta subito l'equilibrio con il primo gol perché si fa tutto il campo obbligando rocco poi a stenderlo anche lì facendo che facendo vedere a tutto il mondo che l'argentina veramente il centrocampo non ce l'ha poi la magia di di mariella rimessa in partita sono riuscito a tornare con un gol diciamo fortuito di mercato e lì sembrava che l'argentina potesse avere in mano la partita ma poi pavard doppiata di mbappé la partita è praticamente quasi quasi finita perché poi sul 4 a 2 ormai c'era poco da fare ha segnato aghera al 94 al 93esimo e anche lì spiegatemi perché aghera è entrato soltanto al 66esimo quando il risultato diceva già francia qua francia 3 cioè francia 3 argentina 2 e poco dopo l'ingresso di aghera la partita è andata subito poi ancora peggio perché dato il 4 a 3 il 4 a 2 e forse aghero serviva un po' prima insomma quando hai aghero di bala e fai giocare questo l'ho detto in tutto il mondiale e lo ripeto ancora quando hai aghero di bala non lo so io iguain di maria e poi per tutto il mondiale hai preferito alla fine a questi giocatori qua mesa e pavon che hanno giocato molto di più di loro vuol dire che probabilmente tu come allenatore non hai non neanche capito di come è fatto il pallone da calcio detto questo l'argentina esce contro comunque una buona francia che continuano ad impressionare continuano ad avere una difesa un po' ballerina comunque quando prendi tre gol non va mai bene però va avanti e alla fine in questo mondiale l'importante credo che sia sempre rimanere dentro poi dopo chiaramente una volta che si è dentro si tirano si fanno i conti man mano che si va avanti comunque quindi la francia vince da sempre assolutamente ragione e dispiace per maturini che salterà la prossima partita ma che tornerebbe in caso di semifinale e credo che la francia abbia buone possibilità perché comunque adesso oggi mi vedrò portogallo uruguay portogallo ma credo che entrambe le squadre non siano a livelli di francia e argentina quindi se la francia non fa cappelle credo che in semifinale possa per notarsi già un posto comunque francia dentro argentina fuori argentina che alla fine è uscita un turno dopo rispetto a quello che ormai si pensava visto che sembrava già fuori nei gironi e adesso dopo juve che perde una squadra con dentro un suo giocatore ma anche questo si sapeva in quanto come possiamo dire a una delle due francia argentina deve uscire adesso vediamo c'è stasera uruguay portogallo spero l'uruguay è difficile perché ronaldo sarà caricato da questa prestazione non brillantissima di messi e staremo a vedere insomma io intanto vi saluto vi do appuntamento al prossimo video se riesco a proposito stasera ma credo sul tardi e non appena finita la partita ecco vi saluto e vi do appuntamento appunto al prossimo video ciao